Il silenzio istituzionale durato per decenni sembra lentamente sfumare l'area della riserva orientata a biviere finita sotto i riflettori anche dell'amministrazione comunale, uno spartito analogo a quello di bombe ecologiche presenti sul territorio a cominciare dalle ex discariche industriali Cipolle e Marabusca. In settimana anche il sindaco Lucio Greco ha partecipato al sopralluogo condotto dai tecnici di Arpa Ispra, mentre la Capitaneria di Porto aveva già preso atto di ciò che si verifica a Bulala tra roghi di rifiuti pericolosi ed erosione della costa. Il labbiviere come denunciato dagli operatori. In assenza di controlli negli anni si è trasformato in terra franca. I roghi si susseguono le fiamme, avvolgono rifiuti e resti di produzione di ogni tipo rilasciando in atmosfera sostanze molto pericolose. Una terra dei fuochi che adesso è stata mappata dagli operatori della riserva. È stato completato il censimento delle aree incendiate e delle zone dove le discariche abusive vengono eliminate appiccando roghi. Una lavoro condotto per avere dati certi che verranno trasmesse al Ministero dell'Ambiente dove danni ha aperto un tavolo tecnico. Uno dei responsabili della riserva, Emilio Giudice, spiega che certamente questo tipo di attività non rientra nelle competenze degli operatori ma c'è stato bisogno di farlo per avere dati certi altrimenti tutto si sarebbe fermato anche rispetto alle procedure al Ministero. Le aree limitrofe alla riserva e quelle interne sono state passate in rassegna anche usando strumenti di localizzazione piuttosto semplici come quelli forniti da Google Earth. I funzionari ministeriali, dopo quanto riferito dallo stesso giudice nel corso delle tante riunioni romane che si sono susseguite nel tempo, hanno finalmente preso atto delle enormi falle nei controlli e della necessità di rivedere i possibili interventi di risanamento dell'aria, anche se di risorse finanziarie vere e proprie mancano tracce concrete.